CASTELLO FIABESCO Ciao, io mi chiamo Sidney e oggi vado a vedere chi ha suonato alla porta. Oh, ho ricevuto una lettera! Mmm! È un invito a una festa! Devo scegliere che vestito mettere, c'è il dress code, questo no, questo nemmeno, no, 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 oh! Questo è proprio quello che ci vuole! E adesso mi devo fare i capelli! Per prima cosa mi serve il ferro! E adesso devo fissare la fettinatura con la lacca! Ho l'impressione che ci manchi qualcosa, per esempio una corona! Questa fa proprio al caso mio! Non mi sono fatta il manicure! Devo chiedere aiuto alle Winx! E ciao ragazze! Mi potete dare una mano? Ho bisogno di un manicure! Oh, non saprei proprio, non abbiamo tempo! Eh sì, siamo già in ritorno per la festa! Ma dove vai? Aspetta! Magari mi puoi dare una mano tu! Oh ragazze, aspettatemi! Vado a chiedere alle Barbie! Ciao ragazze, non è che mi potete aiutare a farmi le unghie? Oh no, guarda, siamo proprio di fretta, dobbiamo andare al ballo, ciao! Nessuno mi vuole dare una mano! Uffa, nessuno mi vuole aiutare! E io non posso andare alla festa con le unghie così! Ciao Sidney, perché stai sbuffando? Nessuno mi vuole aiutare a mettere lo smalto per le unghie! Ma io ti aiuto volentieri! Come? Adesso vedrai! Wow! Questa è una macchina automatica per il manicure! Wow! Wow, spacchettiamola subito! Wow! Grazie Elsa, mi hai salvata! Adesso mettiamo dello smalto sul pennellino! Wow! 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 E adesso facciamo la seconda mano! Ah, come sono contenta! Abbiamo fatto proprio un ottimo lavoro! Elsa, sono in ritardo! Non è un problema! Abracadabra! Eh? Oh! 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 E tu? Ti sei mai fatta bella per andare a una festa? Ciao! Ci vediamo la prossima volta! Ciao! 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 Grazie a tutti.